Lunedì 23, dopo domani a Larino, ci sarà la conferenza istituzionale per la riapertura della camera iperbarica nel nosocomio del Vietri. Un'apparecchiatura di alta tecnologia che richiama pazienti dal centro-sud e crea mobilità sanitaria attiva. Dopo alcuni mesi di inattività per mancanza del medico anestesista, torna ad essere operativa all'ospedale di Larino la camera iperbarica. L'ufficialità della riapertura ci sarà la mattina di lunedì 23 nella Casa della Salute, fanno sapere dal distretto sanitario di Termoli, cerimonia alla quale è prevista la presenza del Presidente della Giunta regionale Francesco Roberti e del Direttore generale dell'azienda sanitaria Giovanni Di Santo. La camera iperbarica al Vietri, oltre ad essere un macchinario altamente tecnologico, è un servizio richiesto da un bacino di pazienti sempre più numeroso che oltre al Molise proviene dalle realtà circostanti di Abruzzo, Puglia e Campania. La terapia di ossigenazione iperbarica che ritorna nel nostro comio frentano ha una maggiore efficacia nei processi disinfiammatori e nella rigenerazione dei tessuti in molte patologie. Il trattamento è molto indicato per fibromialgie, artrite, artrosi, necrosi ossea e osteomielite. La riapertura dell'importante struttura pubblica, seppur inizialmente per soli due giorni alla settimana, causa la penuria di personale medico-infermieristico, è stata comunque accolta favorevolmente, nella speranza che possa tornare a pieno regime entro pochi mesi.